Il 25 marzo 2022 è allo spazio PIN di Piazza Repubblica Milano, incontriamo il Presidente, il Presidente del Collegio Provinciale FIAIP Milano. Grazie e un saluto a Marco Mosca. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti gli associati FIAIP. Oggi, con l'inizio della primavera, partiamo con i corsi in persona del nostro collegio. Abbiamo una serie di corsi molto interessanti. Inizieremo con Luigi Sarzano, con le tecniche di acquisizione. Questa è una prima sessione che avrà un seguito il 6 aprile con una seconda sessione di approfondimento dove invito tutti gli associati a partecipare. Buon lavoro a tutti, grazie. Ha riscosso successo il corso di formazione organizzato dal Collegio Provinciale FIAIP Milano su due degli argomenti cardine del settore immobiliare, la ricerca e l'acquisizione degli incarichi di compravendita. In una giornata intensa, il relatore Gianluigi Sarzano, con il suo stile dinamico, concreto, moderno, ha posto l'accento su tematiche di grande interesse per gli agenti immobiliari realmente professionali. Dal valore dei dati al metodo di lavoro e l'organizzazione d'agenzia, dall'attività di ricerca ai canali vincenti per l'acquisizione degli incarichi. Il Collegio Provinciale FIAIP Milano invita i suoi associati, mercoledì 6 aprile 2022, per la seconda puntata con Gianluigi Sarzano, approfondendo altre interessanti tematiche. Bene, allora giornata importante, giornata 1 di 2, tema importantissimo, il pilastro dell'attività di agente immobiliare ricerca e acquisizione. In ricerca e acquisizione attingiamo da un prodotto che è il master in ricerca e acquisizione, un prodotto che tiene conto di tutti gli argomenti, dal metodo ai canali di ricerca, l'appuntamento, il superamento delle obiezioni, la negoziazione, gli strumenti supporti, la gestione dell'incarico, il personal brand. Oggi ci concentriamo sul valore dei dati, l'organizzazione dei canali di ricerca. Il 6 aprile vi aspetto tutti, dove parleremo dell'appuntamento, della comunicazione efficace, del superamento delle obiezioni e di come acquisire in esclusiva e a prezzo. Vi aspetto il 6 aprile.